Arrivare in Italia, beh allora io sono arrivato tantissime volte in mare a Genova, anzi molte più volte qui che in Atlantico però questa è la prima volta che arrivavo con una barca da veloceanica, quindi è molto strano perché è una barca un po' goffa in questo genere condizioni però è bellissimo arrivare qua, c'è la famiglia, c'è gli amici, molto bello Eh diciamo che vorrei dire un mix ma in realtà sono abbastanza arrabbiato perché abbiamo perso la regata dopo averla dominata il 99% del tempo quindi un po' siamo tutti così, un po' tristi ovviamente però vabbè a parte il gioco loro sono stati bravissimi ovviamente lo sapevamo perché sono i migliori che ci sono quindi è bello anche per quello perché sai che appena fai un errore te lo fanno capire No è stato molto bello appunto ritrovare Johan che vabbè oltre ad essere uno dei bellissimi forti che c'è in circolazione è stato il mio avversario alla rotta del room per tanto tempo e ho capito alcune cose insomma sicuramente abbiamo un livello di esperienza molto molto diverso lui certe cose proprio le fa occhi chiusi quando io mi pongo tantissime domande e è stato molto bello navigare con lui insomma è stata un'esperienza ricchissima come on Hulson let's go, hop to go, hop to go, hop to go